Buongiorno e benvenuti. Oggi siamo qui con Giacomo, un 19enne. Giacomo, faccia una breve presentazione di chi sei e quello che fai nella vita. Allora, io lavoro nel salone da 2-3 anni e sono qui per spiegare, diciamo, la moda dal 2013 in poi. Quindi la nuova moda 2014 per quanto riguarda i nuovi tagli, quindi? Sì, allora adesso torneranno i tagli anni 50 e anni 60. Sulla donna ci sono diverse acconciature che riprendono molto i vestiti anni 60, invece sull'uomo molto prima. Quindi che richieste ti fanno gli uomini quando vengono da te? Anni 40 anche. So che oltre a curare l'aspetto delle nuove acconciature 2013-2014 ti occupi anche di abbigliamento, vero? Tu hai dei consigli da dare agli ascoltatori? Diciamo anni 50 riprendono molto, diciamo, quell'epoca lì. Quindi ecco, un ritorno negli anni 50? Sì, in poche parole sì. Per l'abbigliamento invece che cosa consigli? A me che sono donna, ad esempio, che cosa consigli? Guarda, adesso torneranno, diciamo, torneranno dei vestiti che andranno molto, diciamo, più larghi sulle gambe, sulla caviglia, diciamo, e torneranno anche dei vestiti molto stretti sopra e torneranno, diciamo, cappelli e tutte varie cose che magari prima non... Quindi si giocherà anche molto sull'oggettistica? Anche, anche. Ci sono, per esempio, degli anelli, diciamo, anche un po' grandi che andranno a riprendere l'abbigliamento, il taglio di capelli e, diciamo, un po' tutto il resto. Quindi vestite semplici, tanti oggetti e acconciature retro? Sì, sì. La trovo, diciamo, una cosa molto bella perché personalmente piace molto di più. Della moda che c'è stata finora? Sì. Quindi è un consiglio che tu già dai ai tuoi amici? A chi dai questi consigli? Ai amici? Ai clienti? A chi? Guarda, io personalmente a un po' tutti i clienti. Giacomo, io so che curi l'aspetto di molti ragazzi e ragazze della zona. Sono contenti di questa nuova moda. Che cosa ne pensano? Sei tu a proporla? Guarda, sì. Io, diciamo, la propongo sempre. Sono rimasti tutti veramente contenti. E anche, magari, dei tagli un pochettino più estrosi. Però io consiglio sempre sul classico. Ok, grazie Giacomo per questa intervista. Salutiamo i nostri amici che ci vedono e ascoltano. Alla prossima. Ciao!